e la differenza del solito quest'oggi non sono solo alle 7 del mattino ma anzi qui con me c'è Filippo Poletti buongiorno Filippo buongiorno Fabio buongiorno a tutti che bella mattina allora hai detto lunedì 17 amici non è venerdì 17 quindi siamo a posto si può stare tranquilli è bello averti finalmente qui un lunedì e non in collegamento ormai sei in giro per il mondo non abbiamo però portato la tazza in giro per il mondo per buon lavoro eh sì no dobbiamo farne una posta qua dobbiamo dargli poi la tazza dopo mi siamo dimenticati perché siamo così abituati a vederti in giro per il mondo con la nostra tazza di Good Morning Milano che ormai abbiamo dato per scontato ricordiamo anche il Whatsapp per intervenire 3317853555 con Filippo questa mattina parleremo del mondo del lavoro ma quello bello quello che nobilita quello che dà belle storie soprattutto eh sì per noi amici non siamo dei buonisti ma siamo delle persone che sono consapevole del fatto che un posto di lavoro dove si lavora bene dove si sta bene permette di produrre di più di fare è sempre meglio sempre di più questa mattina appunto qui con Filippo Petti il top voice di LinkedIn poi gli devo chiedere che lavoro è il top voice di LinkedIn perché parla sempre di lavoro però che lavoro è il top voice di LinkedIn lo scopriremo fra poco dopo Pino Daniele Pino Daniele con Yes I Know My Way la nostra canzone di apertura di quest'oggi lunedì 17 giugno lunedì arrivano anche i primi Whatsapp della mattinata buongiorno Alberto che ci scrive buongiorno e buona settimana Fabio alla redazione agli ascoltatori di Cristiano Radio Milano un saluto anche a Filippo Poletti grazie è arrivata l'estate anche al lavoro è arrivata l'estate di fatti sono venuto qua e passeggiando dallo storio di San Siro sentivo quest'aria calda frescolina calda frescolina bellissima è arrivata la storia di San Siro c'erano già quelli accampati fuori per il concerto di Vasco? no però Vasco ragazzi è un appuntamento da non perdere pensa che ho intervistato no ho intervistato tantissimi cantanti nella mia vita ma non ho mai intervistato Vasco Rossi allora caro Vasco se sei all'ascolto chiamami che ti intervisto ok diciamogli non credo che sei in buona compagnia mi sa che Vasco non è uno che si va a intervistare proprio molto spesso quindi insomma però deve essere ti intervisti tanti anche tantissimi beh guarda ricordo tra gli incontri più straordinari Pino e Daniele per esempio ricordo uno una persona straordinaria una persona di un'umanità di una dolcezza di una sensibilità veramente e poi questa voce questa voce che io ho sempre paragonato a quella di Mina faceva delle cose pazzesche sì in falsetto insomma faceva delle robe alla Mina e Mina insomma assieme a Pino secondo me è stata una grandissima è una grandissima interprete forse la più grande in Italia ancora 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 andate a ascoltare oppure se telefonando se telefonando chi non la conosce ragazzi andate ad ascoltare peraltro con un grande autore si telefonando che era appunto un presentatore Maurizio Costanzo eh sì quella cosa lì che pensi veramente cioè cui personaggi hanno fatto veramente qualsiasi cosa altro che fare bene un lavoro gli hanno fatti bene tutti sì bene tutti guarda mi ricordano per esempio un altro grandissimo personaggio che non c'entra con la musica che ho conosciuto che era Versace ok perché Versace fu colui che in tutto riuscì a fare tutto bene chiaro dalla musica dal teatro alla moda insomma e poi sono andato ricordo quando sono andato a Miami a vedere questa questa villa dove è stato ammazzato purtroppo e ho detto ma com'è possibile un grandissimo una persona così straordinaria insomma fare questa questa fine ignobile insomma a fare bene il lavoro non è una cosa facile però nel senso che tu appunto ne parli spesso di lavoro e anche parlarne bene non è facile perché parlarne male è facilissimo parlare male del lavoro parlare male di che tutto non va bene insomma è abbastanza semplice tu fai un'impresa bella che è quella invece di far vedere il lato positivo che magari a volte è più difficile da far vedere ma esiste nel mondo del lavoro ma io dico sempre che se ciascuno di noi raccontasse una storia positiva del lavoro al giorno bene questo paese cambierebbe guarda l'altro giorno venerdì sono stato da un grandissimo imprenditore che è Giacomo Ponti il presidente della Ponti nona generazione dell'aceto sì una storia pensa un po' parlando noi siamo qua a Milano è una storia molto curiosa l'aceto Ponti nasce nel 1787 penso un po' sai quando la scala la nuova scala fu inaugurata con Salieri fu inaugurata nel 1778 quindi è coeva della scala della scala insomma una storia straordinaria Giacomo e la cugina Lara hanno questa questa portano avanti questa tradizione la tradizione dell'aceto in queste colline colline del Novarese insomma mi ha incantato mi ha incantato con l'aceto come si fa l'aceto non l'avevo mai visto e mi ha incantato con le conserve insomma l'Italia è piena di bellissimi esempi dunque carissimo Fabio parliamo parliamo anzitutto delle cose positive dei buoni esempi ma perché si dice che le cose belle non fanno notizia ma guarda ma non è vero sono anni che vengono a darmi belle notizie ma insomma Filippo Poletti è diventato il giornalista più seguito su LinkedIn con le buone notizie forse insomma beh però c'è una ragione chi ha studiato il cervello sa che c'è un cervello molto antico un cervello che abbiamo ereditato appunto dai rettili e che viene stimolato dagli impulsi negativi ebbene allora le notizie negative accendono il cervello ecco perché i media e noi stessi io sono giornalista tu lo sei appunto cerchiamo o meglio tanti cercano di stimolare quella parte del cervello io dico che si può stimolare il cervello anche con notizie positive ed è quello cosa non dire siamo un po' evoluti dall'epoca dei rettili quindi forse potremmo anche sfruttare un po' a nostro favore questa evoluzione a volte però insomma si punta sul male perché accende gli stimoli accende ecco io dico accendiamo gli stimoli positivi l'Italia ha bisogno di buoni buoni esempi come l'amico Giacomo Ponti il presidente che saluto ecco poi dopo di che predico bene ma razzano male perché con cosa andiamo adesso con il traffico invece che è la cosa peggiore che stimoli ovviamente la parte peggiore del nostro cervello no anzi ringrazio gli amici di Luce Verde che adesso ci daranno in tempo reale in questo istante la fotografia del traffico sopra Milano così voi che ci state ascoltando alle 7 e 18 minuti sappiate insomma vado a destra o vado a sinistra quando esco di casa oggi la prendo o non la prendo quella benedetta statale la tangenziale come messa io non lo so sono chiuso qua dentro ma invece lo sa benissimo Luce Verde che ci dà appunto la fotografia in tempo reale delle strade di Milano città metropolitana e anche di regione a voi Luce Verde Farrell Williams e Miley Cyrus con Doctor Work It Out il doctor il doctor ce l'abbiamo qui noi il nostro dottore del lavoro buongiorno Filippo Poletti ancora buongiorno Fabio buongiorno a tutti buon lunedì 17 suona bene suona bene buon lunedì 17 invece buon lunedì 17 allora il lunedì appunto è il giorno del buon lavoro di solito quest'ora più o meno ci colleghiamo con te in giro per il mondo hai portato la nostra tazza a Napoli a San Donato adesso è arrivata anche in studio eccola qua orgoglio di Good Morning Milano e di solito ci racconti il mondo del lavoro appunto della settimana che verrà o di quella che è stata con tre parole oggi quali sono le parole che potremmo utilizzare allora innanzitutto buon lavoro a tutti come diciamo noi allora la prima parola di oggi è stile non so se avete letto questa bellissima intervista di Giorgio Armani nel nuovo supplemento di Repubblica dice appunto una cosa bellissima e dice trovo debilitante il fatto che accendendo la televisione vediamo tutti questi scazzi fra di loro Armani dice proprio questo e aggiunge questo non l'accetto occupano poltroni importanti sia per la prova di gente che per chi è diventato ricco lavorando perché i soldi non piovono al cielo insomma bella notizia qual è? che Armani Giorgio Armani The King ci dà una lezione di stile Giorgio Armani piacentino ma milanese di adozione sta per compiere pensato un po' 90 anni l'11 luglio del 1934 è nato e allora da lui una bellissima lezione di stile appunto da chi ha fatto la storia dello stile insomma attenzione attenzione a usare bene le parole politiche no la seconda parola della settimana è felicità e qui Sinner ci ha detto qualcosa di speciale lui ha detto siate felici e avete già vinto l'ha detto quando? nella festa che ha fatto a casa sua assieme agli amici del paese e appunto aggiunge se fai la scelta giusta che te la senti che è proprio quella giusta hai già vinto in sostanza caro Fabio e cari amici di Milano News la felicità che cos'è? è la vera vittoria da conquistare quindi felicità intesa come equilibrio come benessere personale infine c'è una terza parola e la terza ne abbiamo parlato diverse volte in quest'anno abbiamo iniziato ricordo bene il 18 il 18 di settembre del 2023 abbiamo fatto 35 puntate abbiamo dato 105 parole ecco la terza parola la riprendiamo da una puntata precedente è inclusione stasera oggi è lunedì 17 a Roma ci saranno i Wii Embrace Games cosa sono? i giochi senza frontiere dico perché ne parlo perché sono promossi da Bebe Vio che sappiamo qui a Milano ha la la sua accademia Bebe Vio Academy e quindi i ragazzi dai 6 18 anni cosa possono fare? possono praticare lo sport diversi sport per esempio la scherma in carrozzina io vi racconto questa storia perché ho una carissima amica che appunto è andata a scuola con una delle mie figlie e che appunto è in carrozzina e Gaia che saluto ciao Gaia e che appunto grazie all'accademia di Bebe Vio ha scoperto il bello della scherma e poi si possono fare altri sport se ti invole i basket in carrozzina atletica paralimpica calcio per amputati insomma ma cosa c'entrano i We Embrace Games con il lavoro che saranno a Roma oggi a Roma alle ore 20 c'entrano tanto perché l'abbiamo detto più volte a buon lavoro la parola chiave appunto fuori e dentro lavoro è sempre inclusione e allora cari amici come diciamo noi buon lavoro a tutti con le parole chiave di questa settimana stile felicità e inclusione beh insomma queste sono le parole del lavoro vi fanno capire davvero come dicevano prima che si può parlare bene di lavoro si deve anzi a questo punto direi in questo momento è interessante quello di Armani è molto interessante saprete utilizza anche una mezza parolaccia è una roba dello scazzo si si l'ha detto l'ha detto proprio così andatevi a rileggere questa intervista è veramente interessante intervista fatta da Maurizio Molinari ed Emanuele Farnetti appunto sul supplemento U di Repubblica bellissimo bellissimo e io sono un fan di Armani nuovo nuovo supplemento nuovo supplemento nuovo supplemento da leggere io sono un fan di Armani lo intervistai nel 1999 mi è sempre piaciuto ricordo benissimo e anche tu lo ricorderai quando durante la pandemia lo ritrassero nella vetrina che stava allestendo una persona straordinaria speciale come speciali e straordinari sono ahimè i miei ascoltatori alcuni come ad esempio Nello che ci scrive tieniti forte diciamo Nello non è vero che il 17 porta sfortuna non è vero il 17 ho conosciuto la mia ex moglie era una battuta devo sottolinearla perché sennò qua Filippo facciamo finta che ci è piaciuta sennò poi si offendono i miei ascoltatori grazie Nello spero che si rompa il cellulare comunque no scherzo anzi grazie dei whatsapp al 33178 53555 Nello Nello dici sulle parole chiave cosa ne pensi dello stile di Armani o della felicità della felicità è una parola che è difficilissima da comprendere a volte e però guarda è tornata di grande moda nel senso che si parla addirittura di un pill legato alla felicità penso un po' e se il prodotto lordo è fila la felicità interna lorda e questo era Silvano Migli Selton con Enzo Iannaci in Silvano alle 7.36 minuti e al 33178 53555 si scrive Adriana buongiorno Fabio oggi ho super sonno serve musica potente benissimo ci proviamo Adriana ci proveremo a darvi la sveglia quella la scossa che serve la mattina anche perché magari sei una di quelle che ieri sera andate al concerto dei Green Day abbiamo sentito qua si sentiva benissimo qui in zona ovest zona San Siro si sentiva perfettamente il concerto dei Green Day alla Maura non so se riesco ad essere all'altezza i Green Day sono sicuramente molto più potenti di quello che possiamo fare noi la mattina però abbiamo un suggerimento infatti bravo eh sì sì allora Silvana vuoi svegliarti Adriana Silvana è una canzone ecco vabbè ero confusa Adriana allora Adriana come si fa iniziare la mattina col piede giusto anzi doccia fredda anzi bagno freddo nel ghiaccio non ci credi Fabio mi viene male solo a pensarci eppure concentrandosi sulla respirazione anzi sull'espirazione quindi si ispira e poi ci si concentra a espirare a tirare fuori il fiato lentamente bene bene si entra in una specie di come dire di ipnosi di trance e non si sente il freddo anzi si sente il caldo chi te l'ha detto te? eh ho fatto un esperimento ho fatto un esperimento un esperimento a Rimini scusami a Rimini a Venezia anzi era a Venezia davanti alla mostra del cinema mi hanno detto bene prova sulla spiaggia questa esperienza quindi vasca fredda gelida pieno di ghiaccio ma pieno di ghiaccio quindi temperatura sotto zero sotto zero no ma insomma diciamo bene concentrandosi prima ci si riscalda allora cara Adriana prima di tutto devi riscaldare beh non puoi entrare diciamo a freddo il tuo corpo quindi prima ti riscaldi ti muovi ti riscaldi magari fai dei plank fai degli esercizi dopodiché ti concentri sulla respirazione entri e per due minuti scoprirai un universo anzi non vorrai uscire cara Adriana per i due minuti più lunghi della tua vita no oppure passano no 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 passa 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 e poi dopo ti senti rigenerato perché il freddo riattiva siamo poi insomma in realtà noi siamo quelli di migliaia di anni fa insomma sempre gli si torna sempre gli si torna il nostro corpo era abituato a vivere nel freddo e il freddo riattiva per esempio la circolazione insomma e tante altre cose Adriana adesso tu sai magari in altezza che ne so del naviglio ecco buttati nel naviglio tanto me lo fresco e poi così ti da un'asciugatina e vai al lavoro potrebbe essere un'idea no magari però quindi diciamo che traslandolo nelle nostre case doccia fredda il consiglio doccia fredda e io sai che cosa poi rifare il letto sappiamo questa cosa che ti dico quel colonnello americano che ha detto che l'importante la cosa principale da fare la mattina appena ci svegli è rifarsi il letto che se no non si può partire bene la giornata beh la barba io la barba non posso lanciare tu ce l'hai lunga io ho trovato il modo di non a me dà fastidio la barba amici a voi dà fastidio la barba e a me sì quindi io la devo fare allora io credo che a tantissimi dà fastidio poi qualcuno come me ha iniziato per pigrizia a non farsela a quel punto gli hipster hanno detto sai che c'è quasi quasi non ci abbiamo voglia di fare niente la mattina e quindi tutti col barbone ma secondo me la metà di noi però ogni tanto la devi fare sì ogni quanto un mese e io sono un po' sì sono un po' lazy in questo caso sì vado anche una volta al mese dovrei farla almeno ogni due settimane diciamo ce l'hai corta peraltro amici la notizia di oggi è che Fabio è dimagrito ma non è vero è solo che mi vedi al video di solito no 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 è dimagrito ha perso 15 chili sì persi per strada mi stanno riportando tutti indietro non c'è problema con le raccomandate comunque no Filippo dicevamo appunto iniziare la mattinata è importante anche perché poi la mattinata è l'inizio di quello che poi andremo a compiere durante la giornata e in questo momento tu cosa stai compiendo in questi giorni e allora sto finendo penso un libro che ho iniziato 25 anni fa sembra una scherza ti sei preso tempi giusti eh sì inizia a andare a intervistare anche J.K. Rowling non ci aveva messo tanto a scrivere prima Harry Potter quindi insomma si porta fortuna eh sì iniziai a andare a sentire grandi personaggi e prima abbiamo sentito Jannacci ricordo un'intervista splendida di Jannacci pensa che Jannacci mi raccontò di Chopin mi raccontini mi raccontò di questo eh che si intitola la caduta di Varsavia perché mi disse vedi nella vita noi abbiamo due mani mi disse e eh la caduta di Varsavia ci insegna a usare la mano sinistra trrorrorrorrorror che fai una serie di scale discendenti e eh e e pure la mano destra la mano destra cantando quindi mi dice bisogna usare tutti così come faceva questa metafora sul lavoro tutti siamo importanti e quindi una mano aiuta l'altra e l'esempio di Chopin, della caduta di Sare uno studio bellissimo mi ricordava anche Iannaci che appunto nel nostro ino, l'ino d'Italia è citata appunto la Polonia per cui una grande citazione di un grande maestro che appunto è stato Iannaci io lo ricordo, sono cresciuto ascoltando Scab the Tennis la strada che portava l'idroscalo eh sì, l'ho sentito l'ho risentito e me lo faceva sentire mio padre mio padre, pensa, era immigrato negli Stati Uniti era andato a lavorare a New York, però si era portato dietro un disco e sai che disco si era portato? Un disco di Iannaci e quindi mi faceva sentire sempre Scab the Tennis e dopodiché io crescendo ho detto volendo fare questo libro sulla musica, chi devo andare a sentire? Iannaci proprio ricordando mio padre e quindi è stato un incontro nell'incontro musica che ha caratterizzato la tua vita perché noi potevamo essere qua a parlare con Filippo Poletti compositore di chissà quale hit volendo ad esempio eh ho scritto ho fatto composizione sperimentale a Milano sperimentale sperimentale Stokhausen, Berio, Lighetti, Bules insomma sì 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 altro che Annalisa Sanremo, capito? eh però sai la composizione è un passo per tu io dico che la cosa che più mi ha insegnato nella vita è stato mettere insieme le note imparare a fare il contrapunto una parola che sembra difficile però insomma a scrivere la musica a scrivere e no molto spesso si dice ma come faceva Beethoven che non sentiva scrivere la musica? ebbene cari amici, cari amici ascoltatori si può imparare a scrivere che cosa? ascoltando se stessi e questa è la lezione più bella che ti insegna la composizione imparare ad ascoltare se stessi e a tirar fuori delle note vero e questo è Filippo Poletti capite perché lo chiamiamo Kiko? capite perché è top voice di LinkedIn? capite perché è il giornalista più seguito su LinkedIn con le sue notizie tutti i giorni tutti i giorni? non c'è il giorno che non... sì tutti i giorni tutti i giorni e questo me l'hai insegnato la musica perché mi dicono che cosa ho imparato la musica ho imparato il metodo vedi il metodo ho incontrato tantissimi musicisti nella mia vita e io non ho mai conosciuto persone più metodiche più metodiche dei musicisti musicisti perché ci vuole rigore ragazzi invece uno pensa che invece no sono lì cazzeggi non scrivono due note poi no le mani non vanno il diaframma non va bisogna esercitarsi vedete così come i musicisti sono dei grandi rigorosi altrettanto lo sono gli sportivi difatti io come dire trovo dei parallelismi tra il mondo della musica e il mondo dello sport ho intervistato grandissimi virtuosi e dici ma questo qua diciamo così si divertiva tutto il giorno no si esercitava tutto il giorno ragazzi le mani non vanno il fiato non va bisogna esercitarlo e allora adesso tieni in caldo voglio sapere chi era il più virtuoso che hai sentito di questi qua va bene prima però ci ascoltiamo D'Agenda Amico con Onda Alta proprio appunto da Sanremo però insomma esce fuori tanta anche bella musica D'Agenda Amico Onda Alta chissà se appunto è servita questa a dare la sveglia ad Adriana oppure sta immergendosi nella vasca di ghiaccio come hai suggerito tu Filippo chissà Filippo Poletti qui con me appunto a parlare di lavoro ma non solo anzi adesso stavamo parlando di musica di personaggi virtuosi di grandi personaggi dello spettacolo anzi so che tu insomma ne hai intervistati tanti alcuni poi hai avuto anche diciamo modo di avere degli scambi pistolari con loro e non solo uno su tutti Mike Buongiorno sì Mike Buongiorno uno straordinario professionista di grande umiltà e di umanità lo incontrai a Milano e mi raccontò la sua passione della musica lui era veramente un intenditore un intenditore di musica barocca penso un po' pensate piaceva molto la musica barocca l'aveva conosciuta attraverso degli amici famosi direttori dell'orchestra eccetera eccetera e mi scrisse una lettera che vi ho portato e mi disse anche se in ritardo la ringrazio dell'intervista in occasione del mio compleanno dice buone ferie perché era il 28 luglio del 2000 penso un po' buone ferie e allegria Mike me lo immagino che tira via gli occhiali per scrivere allegria fantastico e poi lui ha aiutato l'impresa al fare imprese guarda l'altro giorno mi diceva appunto Giacomo Ponti di cosa è stata Mediaset per gli imprenditori cioè eh sì Mediaset ha rappresentato prima pensate un po' c'erano lunghe file per fare le pubblicità alla RAI e quindi non riuscivi a comunicare il tuo prodotto Mediaset ha rappresentato per tanti improduttori l'opportunità di raccontarsi e quindi Mike con le sue telepromozioni raccontava queste imprese una per tutti ne parlavamo prima la Cieto Ponti che poi grazie a Mike delle promozioni si è fatta conoscere in tutta Italia la cosa divertente appunto è che poi tu passi dal lavoro passi da Ponti da Mike e poi con Mike ad esempio hai parlato appunto di musica perché tu tutta questa gente l'hai intervistata in questo famoso libro che stai ormai speriamo completando dopo 25 anni eh sì dopo 25 anni ci la possiamo completare proprio parla di musica cioè tu hai chiesto a personaggi che non sono uomini o donne della musica hai chiesto però di musica eh sì vedi allora la musica è qualcosa che ti permette di entrare in relazione in confidenza io non avrei mai potuto parlare con Modigliani il nobe dell'economia di economia però della passione della musica sì e ho conosciuto persone straordinarie Ravasi il cardinale Ravasi Suor Germana ecco chi se le ricorda le notizie le ricette di Suor Germana ebbene Suor Germana parla degli angeli di cosa cantano gli angeli insomma una cosa ne riparleremo quando esce il libro non vedo l'ora io non vedo l'ora appunto perché è anche interessante capire come e secondo me mi sarei piaciuto vedere anche la faccia di queste persone che tu abituati invece non so appunto a essere intervistati il cardinale su situazioni cardinalesche diciamo l'economista sull'economia il politico sulla politica tu invece devi dire senza offesa non è che non mi interessa però parliamo di musica ci rimanevano anche colpiti credo parliamo di musica ma con le chiavi con la cassetta degli attrezzi del loro lavoro questo era il segreto perché il fisico parla di musica con gli occhiali della fisica l'astrofisico l'economista il biblista insomma ciascuno ha delle proprie lenti e proprio stamattina leggevo questa bella intervista anzi questa ripresa di un libro a papa francesco e diceva quando incontrava Ratzinger Ratzinger dice allargava sempre la visione ecco io non sono Ratzinger non sono un papa non sono lì però ciò che cerco di fare mai dire mai è di allargare la visione ed è quello che cerchiamo di fare con buon lavoro di allargare di allargare cioè partiamo da una parola per in qualche modo stimolare ciascuno di noi a vedere a vedere oltre a vedere più avanti più lontano e allora appunto hai nominato il buon lavoro hai nominato il tuo lavoro quotidiano su LinkedIn ricordaci un po' quindi come facciamo e come possiamo fare per seguirti giornalmente appunto nella tua divulgazione di buone notizie beh allora colleghiamoci colleghiamoci su LinkedIn anzi caro Fabio LinkedIn LinkedIn eh non sbagliamo eh non l'andiamo se vogliamo dire all'americana LinkedIn e insomma posso dire muto una parolata mi sento un po' pirla è come quelli che dicono Nike invece di Nike o Adobe invece di Adobe cioè non ce la facciamo ma allora le mie figlie dicono quando mi sentono parlare dire LinkedIn mi dicono papà ma cosa sei diventato cinese non lo so ci portiamo avanti nel caso quindi LinkedIn LinkedIn ci vediamo tutte le mattine su LinkedIn eh per condividere appunto le buone buone notizie io dico sempre e fatelo anche vostro cari amici una buona notizia al giorno toglie il medico ritorno ecco toglie il medico ritorno e ti dà la spinta secondo me anche soprattutto ti dà quella giusta influenza per farti iniziare la giornata con un po' di sale in zucca eh ho usato una parola importantissima caro Fabio influenza siamo cerchiamo di essere degli influencer positivi ho letto no quante insomma della storia della Ferragni del Pandoro ma sai la cosa che più mi ha colpito che toccava un ospedale al cui passo spesso perché mia moglie è torinese ed è l'ospedale Regina Margherita amici cari amici non si possono toccare i bambini l'ospedale Regina Margherita è un ospedale infantile non scherziamo con i bambini questa secondo me è stata la cosa più grave una delle cose più grave di quel di quel fatto quindi cerchiamo tutti di essere degli influencer positivi positivi infatti infatti dopodiché Adriana per chiudere ci dice va meglio grazie buona giornata ci dice anche adesso sta entrando in ufficio molto probabilmente quindi insomma siamo riusciti nella missione di far Adriana ti aspetto su LinkedIn promesso Adriana cerca Filippo settembre poi si finisce a giugno noi seguiamo il calendario scolastico che bella esperienza io ti ringrazio Fabio ma ringrazio tutti abbiamo condiviso 105 parole insomma ne dovremo condividere altre 105 nella prossima stagione 105 parole 105 parole di speranza 105 parole di progresso 105 parole di bellezza che Filippo ti ringrazio davvero è quasi stato un campionato il campionato ha 38 partite noi abbiamo fatto 35 35 bene sì un campionato di positività qualcuno vorrebbe un campionato più corto quindi vedi noi l'abbiamo già l'abbiamo già anticipato l'abbiamo già anticipato Filippo grazie mille davvero grazie mille buon lavoro buon lunedì buona settimana e appunto poi ci risentiamo ci rivedremo a settembre a questo punto già te lo dico primo lunedì del 9 settembre promesso io ci sono tu ci sei io ci sono voglio la tradizione apriamo e chiudiamo le stagioni è una tradizione pazzesca che io sono ben contento di avere grazie mille Filippo andiamo con la musica piccola pausa giornale radio poi torniamo qui ancora con Good Morning Milano